Oh, ok. Ho l'arco diiz! Ho la babomba! Ma cosa? Ma cosa? Best gioco di sempre! Le medicine mi fanno sentire meglio! Oh, ok. Ho l'arco diiz! Le tue pillole non ti aiuteranno adesso, piccolo bastardo! No! 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 Sei morto! Ti ho ucciso! No, loro ti hanno ucciso! La morte è stato il primo passo! Tu sei il secondo! Ronnie? Ronnie? Hai detto qualcosa? Cosa sta succedendo lì dentro? Sta diventando... Paurosa la situazione? Ma cos'è? Chi siamo adesso? Ah, siamo lei! Ci serve il martello? Ah no, l'accetta! Sì! Vuoi prendere l'ombrello? Sì! Penso sia a casa di lei! Me ne andrei volentieri, ma non posso farlo senza Ronnie! Ok! Dio, santissimo! Oh, blacksmith! Medikit! Sì, va che bello il medikit del dottor Fragola! Sì, lo voglio! Ok! Posso usare questa per rompere la porta! Pa-pum! Dov'è Ronnie? Ah, va bomba! Per fortuna che è rosso! Per fortuna che è rosso! Per fortuna che è rosso! Oddio! Stai fuori dal bagno! Può prenderti... Se non... Non può prenderti se non sei in bagno! Aaaaaah! Ma cos'è successo? Cosa, cosa? Ma cosa sta succedendo? Rest in peace! Ah, sembra sangue, ma brucia come se fosse acido! Devo... Andarmene in qualche modo? No! Cosa sta succedendo? Il medikit! L'ombrello! Posso usare l'ombrello! Ok, posso usare l'ombrello! Ok, l'ombrello funziona! Adesso posso... Posso lavarmi? Sì! Oh, adesso va meglio! Ottimo! Fuori! Ok! Ah, adesso si può passare! Ok! No! È il mio... È il mio... Ah, ma ora è questo? Perché devo stare in tutti questi... Angoli? Eh, cazzo! Cosa devo fare? Ma perché va avanti così... C'è un numero! 5304! E dove devo usarlo, però? Ah! Ok, ok, adesso ho capito! I numeri dentro il cesso, probabilmente... 5304! 5304! Beh, stavo provando con la stella, però! Ok! Oh! 5! Ok! 5304! 5304! Ok, si è aperta la porta! Ma cos'è quella roba? No, no, no! Tranquillo! Cosa... Cosa sta succedendo? Co-cosa? È un bel po' che non ti fai vedere... Facciamo questa cosa... Ma di chi stia parlando? Cosa sta succedendo? Non lo so se siamo dentro il cesso... Cos'è? Dio mio! Dio mio! Nascondetevi! Cosa? Qual è il piano, Ray? Fuochi d'artificio! Roba buona! Farglielo... Spaventare... Un casino! Non è che dobbiamo aspettare che finisca in cesso? Non è... È la cosa giusta da fare. Fanculo! È il tempo di agire, dai! Via! Ma come cammina questo? Vai! Ci sono le tanniche di gasolio? Eh? Ah! Ma cosa? Ma co... Che cazzo sta succedendo? Per cosa? Dove siamo e perché? Donutte a me! Ci strudizia di umofresti! Ok, non spaventarmi! Questa è una stanza per riposare... Riposare? Prendi una mentina? Riposa per un po'? Ok... Mmm... Non male! Oddio... Oddio... Ma... Dove sono finita adesso? RONNIE! RONNIE! Eccolo lì appeso, RONNIE! Aiuto! Sta per scaricarmi! Chi ti ha invitato? Faccia da culo! Tieni duro, RONNIE! Sto arrivando! Il tuo fidanzato sta per essere... Scaricato per tutta la sua vita! Fluscia a te stesso, stramboide! Vieni a prendermi! Vieni a prendermi! Ti eliminerò! Ok... Devo spegnere la macchina... E salvare RONNIE! Ah, l'ho ucciso! No! Come... Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Oddio! L'ho salvato? L'ho salvato? L'ho salvato! Non è che devo scappare adesso? No! Sono le sue vite quelle? Mi sa di sì che sono le sue vite! Sì, sono le sue vite quelle! Ok, ancora due vite il boss! Ho poca vita! Lui ancora ha una vita, ma sono a bassa vita! Non è che ho un cura-cura, no! Ok! Devo arrivare da dietro! Sì! Sì! È andato lui giù nello scarico! È finita? Ciao, Vader! Ronny! Dove sei? Sono ancora qua su! Non trovo un modo per scendere! E che cazzo? Ma è il dottor Fragola con l'elicottero! Vai, dottor Fragola! Grande, dottor Fragola! Ha salvato un'altra volta la situazione! Sì! No! Un terremoto! No! Il megaboss! Il motore! No, Dottor Struberry si è sacrificato per noi No Ronny, dobbiamo andare Scappa, scappa Ma ci ha mandati a fanculo Ci ha mandati a fanculo Ce l'abbiamo fatta, mi hai salvato Ti amo Ronaldo No, sta uscendo l'assassino del cesso Stai indietro Non ha potere fuori dal bagno Non puoi scappare da me Oh no, sono fuori dal bagno Fine Ma è bellissimo È bellissimo No Grazie.